Il nuovo ministro dell'economia greca non ha presentato alcuna proposta scritta all'Europarlamento. E' questo quanto trapela da fonti europee mentre è in corso l'Europarlamento, mostrando, evidente la notizia, un evidente nervosismo dei ministri finanziari che si erano riuniti proprio da questa prospettiva. Poi nel pomeriggio è giunta la notizia che il premier Sipras ha chiesto all'Unione Europea un prestito di 7 miliardi da versare entro 48 ore. La Francia sarebbe favorevole e la Germania rimane nettamente contraria. Il presidente della Commissione Europea, Juncker, dice Voglio evitare la Grexit e cercherò di farlo fino alla fine.